Bam, cioè Bicycle Adventure Meeting, un incontro tra amanti della bicicletta, della sua gentilezza, del suo essere così paziente in ogni occasione, sotto il sole coccente di mezzogiorno o sotto a diluvi spietati. Lei c'è e ci tiene compagnia e per alcuni è addirittura la compagna perfetta, ma poi incontri altri come te con quello sguardo folle di chi vuole misurare il mondo con due ruote, che siano da 26 o da 29, non importa, quell'altro sei tu, ci sono le tue paure, le tue preoccupazioni, ma anche quelle stupende emozioni di quando conquisti un passo montano o una rinvigorente doccia calda. Sorrisi, abbracci, nuove amicizie e la consapevolezza di essere fratelli e sorelle in un mondo dove tornano i muri e le gerarchie razziali. Grazie per la visione!